La memoria invece induce a riflettere e che quindi ci sia questa, come posso dire, questa profonda riflessione su quello che è stato fatto, su quello che è la situazione attuale, su quello che bisogna fare, secondo me è molto importante, perché anche chi non ha vissuto queste situazioni però vive il momento e l'idea, come posso dire, di solidarietà, di umanità che la vita di Giovanni Falcone, della moglie, tutta la scorta hanno portato, per noi deve essere un motivo che ci sprone ad agire e che quindi noi non possiamo che ringraziarli ancora oggi per quello che hanno fatto.